A Marotta e Mondolfo c'è grande attesa per la rassegna letteraria diffusa che darà la possibilità a cittadini e turisti di incontrare autori di spicco del panorama culturale italiano e dialogare a tu per tu con loro. Promossa dall'amministrazione comunale, la manifestazione è in programma dal 16 giugno al 7 luglio. C'è tanto entusiasmo e anche grande attenzione per questa manifestazione che coinvolge tutto il territorio, sia a Mondolfo che a Marotta, in tanti luoghi suggestivi del nostro comune e quindi non vediamo l'ora di partire. E sabato 25 poi conferirete la cittadinanza onoraria anche a Guccini. Sì, sarà una grande giornata, un momento di festa per tutta la nostra comunità in Piazza del Comune alle ore 21 avremo la presentazione del libro. Questo riconoscimento sancisce il legame reciproco e sincero di tutto il territorio con il nuoto cantautore Francesco Guccini. Quale sarà il tema di questa prima edizione? Il tema di questa prima edizione di Come un libro all'aperto sarà leggeri e pensanti, quindi la lettura e i libri come risorse per poter leggere e osservare la realtà in modo consapevole e direi anche come momenti di svago e di sosta nella vita quotidiana, dove stare leggeri però non superficiali, quindi da non confondere la leggerezza con la superficialità appunto nell'approcciarsi alla realtà. Tanti gli ospiti attesi si parte giovedì 16 con Matteo Bussola. Su Matteo Bussola possiamo dire tante cose, scrittore, fumettista, conduttore radiofonico. Ci farà anche una bella sorpresa perché verrà a presentare, sì, su Ultimo Libro, Il Tempo di Tornare a Casa, ma ci ha anticipato che il 28 giugno uscirà il suo nuovo romanzo. Quindi giovedì sarà un'anteprima anche del nuovo libro che è Il Rosmarino non capisce l'inverno e quindi ce lo racconterà per la prima volta, è un'anteprima nazionale a tutti gli effetti. Il libro già uscirà, dicevo, il 28 giugno ma è prenotabile ed è in vetta a tutte le classifiche. Chi saranno invece gli altri protagonisti? Passeremo da Marino Bartoletti, grande giornalista sportivo, personaggio televisivo, uomo di grandissima cultura musicale anche e molto altro. Volto di quelli che è il calcio per poi passare a Marina Rei che presenterà il suo nuovo romanzo. Avremo Giulia Baldelli che verrà sabato 18 nel pomeriggio, Roberto Livi e rispetto a Giulia Baldelli e Roberto Livi devo dire che sono due chicche di questa rassegna perché a tutti gli effetti sono autori che quando li ho scoperti e ho letto i loro libri sono di quelli che appartengono alla categoria non vedo l'ora di leggere il prossimo libro che scriveranno. E poi la rassegna appunto è diffusa perché si passerà poi il 25 giugno a Francesco Cuccini sul quale non c'è bisogno di aggiungere altre parole, a quale daremo anche la cittadinanza onoraria. 6 e 7 luglio, due appuntamenti consecutivi che chiuderanno la rassegna con Teo Teocoli e Gabriella Mancini che presenteranno appunto il loro nuovo libro, il Piede dei Dios e il 7 luglio invece avremo il professor Galimberti sempre a Mondolfo e Giardini della Rocca. Quindi direi che ne abbiamo da ascoltare. Anche la libreria Mondadori di Fano collabora all'iniziativa e le Francesca avrà l'opportunità di dialogare direttamente con alcuni degli autori. Esatto. Il raccontare i libri innanzitutto è ciò che faccio normalmente in libreria. Avrò il piacere di dialogare con Giulia Baldelli, con L'estate che resta, un libro pieno di emozioni e con Livi, con Solo una canzone che è secondo me un libro dove oltre alle parole c'è veramente tantissimo. C'è un invito, un messaggio che vuole lanciare i nostri telespettatori? Quello di partecipare a queste rassegne anche a chi non legge abitualmente perché conoscere storie, ascoltare attraverso gli autori di storie, di percorsi di vita secondo me arricchisce molto e magari invoglia pure a leggere.